benvenuti no io ragazzi mi trovo qui di passaggio quindi ok 3 2 1 benvenuti in un nuovo video allora ragazzi oggi saremo siamo qui allora oggi siamo qui per spacchettare insieme a voi una box mista cioè una box che penso che all'interno ci siano tutti scipite le nazioni perchè mi sbaglio quelli l'ho selezionato il sito di cipozzano fa davvero tantissime tantissime box a tema infatti giù nell'info box vi lascio tutti i video che abbiamo fatto con i prodottini di cipozzano quindi dalla box eccetera quindi andatele a vedere perchè secondo me meritano tantissimo avete sempre il mio piace sconto il link se volete supportare ormai ve lo dico sempre in ogni mio video quindi vi lascio tutto giù nell'info box ok io adesso la scarto insieme a voi insieme a mia sorella sono 15 snack giusto perchè l'ho voluta prima scartare proprio per regolarmi un attimo con gli snack perchè io da questi snack che usciranno voglio farci una 24 ore quindi voglio un attimo valutare se ne vale la pena fare una 24 ore oppure non ne vale la pena quindi in base così mi giostro un attimo però vabbè tanti video spacchettamento piacciono sempre a me piacciono quindi direi di iniziare a spacchettare si ok a me ce ne sta andando perchè oggi non so quanti video abbiamo registrato sempre ben imballata a me ce ne sono uno 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 lo uno uno il solito bigliettino che troverete in tutte le box questo è un dolce morbidissimo è proprio una torta è tipo una torta che secondo me all'interno c'è la crema eccola qua mamma mia che bella se vuoi puoi uscire una bella 24 ore bella questa bella bella ok penso sia una bevanda no non ci credo la l'arancia è in valiglia wow bellissima eccola qua chissà com'è ah non l'avevo vista bella ok vai mi ce l'abbiamo però noi questi ce l'abbiamo questi come sono quelli là con il no quello da inchingere nel cioccolato ma ci sta pure il cioccolato quello della Nutella si ecco lì qua May Jean 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 praticamente sono i grissini con la cioccolata eccola qua a parte pensavo fossero Jean cioè tipo Mikado invece no sono da inchingere tu hai sempre amato la teglia tigitigì no comunque si può fare si può fare non mi trovate ok marron non sarebbe pensato per una teglia oddio allora Cadbury Cadbury Daily Milk sarebbero dei tipo bottoncini secondo me con all'interno il mille il caramello il caramello caramello non c'è pure qualcosa di mille secondo te no non penso c'è il caramello un po' pezzo di cioccolato ecco qua no perché non si vede no non si vede fidi giusto stavo per me a pescare a tu 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 sorry chissà come questo ma no raga Doraemon dovete vedere il video assaggio della vecchia box perché mamma mia l'hai risata ecco qua in pandane con la mia magliettina questo è un altro mi sembra piccolo no no raga non scoppare via ma che da limone sono le wafer al limone zitronno ma manner penso che pronunciare bene comunque se non vuoi fare manner si bravo su wafer al limone si limone ma pure menta invece no limone piccoli qua no comunque non tenda a fare si si ok è volato un pillo non so da dove è riuscito no ancora loro no raga ancora loro ce ne è tantissime vabbè ok caramellina che non la vedete mai nel video che sono in sacco non lo stanno in prodotto queste ce le portava la zia questi cosi della Germania infatti sempre cioccolato belga Julian questi sono tedeschi perché la zia quando veniva dalla Germania ce li portava ma questi erano buonissimi si ho questa forma a cui ce li portò sia cioccolato bianco cioccolato fondente che cioccolato normale questo era la fine del mondo bellissimo oh pacco duro comunque raga questa box io non ricordo quanto l'ho pagata per era quella più 19,4 25 25 il prezzo non mi ricordo comunque raga poi nel video vi dirò quanto costano perché adesso non mi ricordo perché l'ho acquistata per Black Friday no Giulia vedi 19 qualcosa 24,90 scontata quindi sarà circa 25 euro a prezzo pena però è fattibile questi sono un sacco di soldi questi comunque ve li faccio vedere no vabbè raga belli infatti ma ve li portiamo di lei gli faccio vedere a mamma quello che è uscito subito lo dirò ok il cioccolato è buonissimo di questo marchio ci sono un sacco di queste cose perché non riesco a capire se è un prodotto sì penso sia un prodotto sì boccadino che cos'è? sopor al cioccolato sopor penso sia tipo un tipo lo hacker eccolo qua ok Leo ok questo sarebbe milkham tipo un wafer era al cioccolato però no per un po' kitkat brava brava perché ho un nemico foto tra kitkat e wafer no kitkat però secondo me all'interno c'è qualcosa tipo la re malatte vabbè raga lo scopriamo insieme questo sta spopolando tantissimo su instagram questi qua l'hai visto? sì sì ok vai tu guardi che l'ho deciso a qualcosa qui marzamancio marzamancio cioccoletto ma comunque è morbidissimo morbido ok vai io è vero morbido muzzo cioccolato e cioccolato nocciola volentrò cioccolato no all'esterno nocciola internamente scusatemi e cioccolato bianco all'esterno all'esterno comunque la mangio faccio tutti i dolci facci caso è vero altri di questi qua questi la vita mia sono io nick knack ecco li qua sono questi qua sono i disgozzoli comunque andri da da capo della mazzer non so penso sia sempre una tavoletta di cioccolato eccola qua eccola qua prego che pescato gli augurette gli augurette penso qualcosa di iogurt comunque non so che cos'è lo vedremo insieme nel video quindi se siete interessate non perdetevi quel video vorrei capire se c'è qualche altra cosa ma non penso più niente comunque c'è scavo alla fine no bella ma già quello lì grande di ma come salato solo questo ma mi ho riscontrato proprio in generale chi ha visto i video forse mi può dire hai ragione si chi ha visto i video gli altri video può dire si hai ragione la maggior parte di queste box sono tutte ducce c'è poco salato sì è vero ok io sono anche di questa box super soddisfatta sì sì sono box posso dirlo particolari che apro sì belle box che spendete soldi e dite ah che bello cioè veramente cose cioè tante novità cose in novità provare sono belle non sono le solite cose sì sì ok ragazzi speriamo che anche questa box vi sia piaciuto io vi aspetto nei prossimi video vi aspetto nella 24 ore così da fare un po' da famigli no però ci sono tante cose da provare e quindi niente speriamo che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao